In Campania si sta lavorando per il 28esimo centro prescrittore per le terapie dell'epatite C. Questo l'annuncio dato da Mario Forlenza, direttore generale della ASL Napoli 1 Centro, che ha introdotto l'epatologia nel terzo millennio, il corso di aggiornamento che si è svolto a Napoli, organizzato dal Dipartimento di Medicina Interna, centro di epatologia dell'ospedale evangelico Villa Betania. A parlarci dell'iniziativa è stato il professore Ernesto Klar. In Campania ogni anno 1700 persone. Il 70% di questi decessi è dovuto al virus dell'epatite C e per questo la Campania si è attrezzata in modo estremamente valido con la collaborazione di medici ed istituzioni per eradicare questa piaga. Ci stiamo riuscendo, abbiamo avviato ad oggi 21.000 trattamenti, la regione più virtuosa d'Italia, ma bisogna intercettare l'infezione nei cluster che determinano maggiore possibilità di diffusione. Tra questi i CERD sui quali stiamo lavorando e le carceri. Abbiamo avuto oggi l'annuncio di una probabile apertura di centro prescrittore all'interno della unità circondariale di Napoli. All'esterno del centro congressi Federico II in via Partenope, tantissimi cittadini hanno potuto effettuare lo screening per l'infezione HCV. Tantissimi sono gli abitanti nella nostra regione che ne sono affetti. Tramite semplicemente l'analisi della saliva si può arrivare a capire se all'interno del nostro corpo c'è o meno l'anticorpo dell'HCV. Il professor Ivan Gardini di Epacollus ci spiega come difendersi. Fare prevenzione vuol dire anche fare tanta informazione. Nella buona informazione c'è la prevenzione. Quindi è d'obbligo, credo, da parte della regione e di tutte le istituzioni informare i cittadini che ora ci sono delle cure che funzionano al 100% in poche settimane e senza effetti collaterali e quindi invitare tutti quelli che sono ancora positivi al virus dell'epatite C ad andare nelle strutture autorizzate e curarsi. Grazie. Grazie.